Nell'arco di questi ultimi anni ci siamo soprattutto focalizzati nello studio di quelle che sono diciamo i meccanismi fondamentali che portano una cellula a diventare una cellula tumorale. In particolare la mia expertise sul melanoma e abbiamo identificato una sottopopolazione aggressiva che chiamiamo cellule staminali tumorali, confermate poi ovviamente dalla letteratura e da altri gruppi internazionali che è quella che sostanzialmente alimenta il tumore. Questo ha un po' cambiato la visione generale di evoluzione del tumore per cui se prima l'idea è sempre quella di cercare di eliminare il tumore o qualsiasi cellula che sostanzialmente è una cellula tumorale con l'identificazione di questa sottopopolazione in realtà la strategia deve essere cambiata perché bisogna eliminare in modo selettivo questa sottopopolazione perché è quella che alimenta realmente il tumore. Quindi si sono aperte veramente grandissime strade, nuove strade. La ricerca direi nell'ultimo secolo si è sempre focalizzata un po' appunto nel cercare di debellare i tumori e soprattutto cercare di specializzarsi il più possibile in aree specifiche in varie branche nel mio campo della biomedicina in aree molto settoriali molto specifiche. Adesso direi che c'è un cambiamento di tendenza perché ancora i tumori ci sono, purtroppo lo sappiamo, non sono stati debellati, bisogna fare anche autocritica e quello che sta emergendo nel mondo, in particolare a partire dagli Stati Uniti, è che è necessaria una multidisciplinarietà, cercare di collaborare anche tra varie discipline. In questo campo noi siamo molto coinvolti, per esempio la medicina che collabora con la fisica è un campo nuovo, molto importante, che negli Stati Uniti in particolar modo sta emergendo e spero che anche nel nostro continente, in Europa e in particolare poi in Italia, immerga sempre di più. Una multidisciplinarietà. L'Italia è un paese dove si fa ricerca, ci sono tanti ricercatori, bravi ricercatori, ci sono due problemi direi fondamentali che perlomeno chi fa ricerca in Italia credo vive e capisce molto bene. Uno direi l'infrastrutture, cioè una carenza delle infrastrutture, che dovrebbero essere all'altezza di una ricerca europea se non mondiale. Il secondo problema è il reperimento di fondi, che non vuol dire solamente ci sono pochi fondi, ma direi anche quelli che ci sono dovrebbero essere distribuiti il più palesemente possibile, il più correttamente possibile con una peer review internazionale. Questi due aspetti secondo me sono fondamentali proprio per migliorare quelle che sono le potenzialità di questo paese, che sono molto buone. Il lavoro dei ricercatori è importante che i cittadini vengano a conoscenza, perché solamente in questo modo quello che noi facciamo nel nostro chiuso, nel nostro ambito, nei nostri laboratori, viene un po' a diventare un patrimonio comune, un patrimonio di tutti. Io su questo, devo dire, ho sempre lavorato e ho sempre pensato che sia veramente una cosa importante. Mi sono occupata di due edizioni della Notte dei ricercatori, sponsorizzate dall'Università di Milano nel 2008 e 2009, appunto la Notte della ricerca, proprio con questo spirito. e faccio una serie di attività divulgative, devo dire, sempre con un grande riscontro delle persone, proprio perché c'è bisogno, c'è una grande sete di conoscenza da parte della gente. Credo un dovere nostro, perché in fondo noi utilizziamo anche dei fondi comuni e quindi il know-how deve essere messo a disposizione di tutti. Grazie. 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 Grazie.